Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 241 e 500 si segnalano 5 chilometri di coda tra Arezzo e Valdarno, sempre verso Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncovilaccio fino al 28 febbraio. Sulla strada regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra i chilometri 278 e 900 e 279 e 500 circa nel comune di San Casciano in Valdipesa fino al 20 gennaio H24. A Firenze dalle 21 del 7 gennaio alle 6 del 10 gennaio restringimenti di carreggiata per lavori in Viale Belfiore, altezza via Guido Monaco. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!